Mi chiamo Luciano Regazzoni, sono un artigiano, uno scultore del legno, rappresento quindi nella lista dell'Union Valdotene tutto il mondo dell'artigianato di tradizione. È una lista di persone serie, competenti, legate al territorio. Io vorrei invitervi tutti i Val d'Atene a votare per la lista dell'Union Valdotene. Grazie a tutti e votate la lista dell'Union Valdotene.